Ciao a tutti, siamo Lettina Comics 2023 in compagnia di Maya. Ci vuoi raccontare un poco di te? Allora, io sono un'appassionata di K-pop più o meno dal 2010, forse anche un pochino prima. Fino a poco tempo fa tenevo questa mia passione soltanto per me. Ne parlavo magari con qualcuno che era disposta ad ascoltarmi, tipo il mio ragazzo. Però è sempre stata una mia passione che ho covato soltanto per me stessa. Sui social sei conosciuta come Gittola, giusto? Come è iniziato il tuo percorso sui social? Allora, una cosa molto curiosa, appunto, tenendo questa passione solo per me, io tante volte la sfogavo sul mio ragazzo. Quindi ogni giorno gli dicevo, oh ma lo sai cos'è successo? Oh ma lo sai che è Momo? E lui mi ha detto, ok a me interessa tantissimo, però perché non provi a parlarne con persone a cui questa cosa può interessare? Gli ho detto, no, no, figurati se a qualcuno interessa quello che ho da dire, oppure lo sanno già tutti quello che sto dicendo. E lui fa, no, perché non provi a fare un TikTok tipo con tre cose che non sai sulle Blackpink? Ho provato e da lì poi è andato avanti. Capisco. Ti faccio un'ultima domanda. Secondo te, diciamo in generale in Italia, come viene percepito proprio il fattore di K-pop, K-drama, proprio il mondo della Corea? Allora, c'è tanta 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 chiusura mentale purtroppo e ci sono tanti pregiudizi perché si immaginano il K-pop, principalmente il K-pop perché per il K-drama diciamo che si sono un pochino più aperti, però soprattutto il K-pop lo vedono come musica di un solo tipo, musica con solo alcuni generi. pensano soltanto a Psy e a Gunnam Style che tra l'altro è super orecchiabile ed è comunque un bop assoluto, però c'è tanta musica diversa, ci sono tante influenze, ci sono tanti generi e in un certo senso un po' la mia sfida è quello di far sentire alle persone che alcune canzoni sono K-pop e far rendere conto loro praticamente potrebbe esserci nel K-pop per ogni persona almeno una canzone che può piacere. Almeno una. Va bene, grazie mille.